salve a tutti oggi voglio parlare di delle partite giocate tra i pro hit master contro best 71 i due sono giocatori fortissimi giocatori che adesso non conosco i loro nomi penso che best sia sergio scarpetta non lo so dovrei andare a vedere e comunque giocatori di alto livello infatti anche su play ok hanno più di 1800 punti ecco e in questi giocatori si sfidano a un minuto più tre secondi cioè un tempo brevissimo perché giocano quasi a memoria tante volte quante partite hanno fatto in effetti e di queste partite giocate il 18 agosto ne ho prese in particolare tre adesso vediamo la prima delle tre l'apertura è la numero 98 considerata 1 n comincia con 22 19 11 14 27 22 il nero risponde con 6 11 il bianco complica con 31 27 ma è una delle principali il nero risponde con 26 e qua invece di 21 17 che sarebbe la principale il bianco gioca 21 18 il nero cattura e qua il bianco non cattura con la consigliata 25 ma con la 26 quindi vuole complicare il gioco vuole entrare su una partita sconosciuta così da confondere il nero e magari poter tentare una vittoria anche se è una posizione abbastanza scomoda da giocare col bianco e qui il nero acquista un leggerissimo vantaggio ora il nero gioca 11 14 25 21 le mosse migliori e qui il nero semplifica la posizione con 14 18 perché qua viene catturata con la 21 non con la 22 quindi cattura con la 21 12 15 questa pedina rimane incastrata queste se ne mangiano due il bianco recupera il nero cattura e qua la posizione pari ora il bianco fa 17 13 che è una mossa sbagliata ma si capisce il perché l'idea del bianco è sull'attacco 95 c'è la risposta con 23 20 quindi da un pezzo e ne cattura due quindi impedisce la 59 al nero ma il nero qui gioca 15 19 e poi fa il tiro ora il bianco deve rispondere per forza con 30 26 sbilanciandosi infatti qui il nero è nettamente in vantaggio anche se la pari è possibile poi viene giocata a 6 10 27 22 e il nero fa 10 13 perché tanto questa pedina non può essere attaccata da nessuno quindi la posizione è molto vantaggiosa per il nero che blocca la posizione di queste due patine infatti la 22 non si potrà muovere facilmente qui il bianco fa 24 20 7 11 per il nero che avanza verso quella zona per attaccare qui 20 16 il nero non gioca 11 14 perché ci sarebbe il cambio e qui la posizione è pari anche se bisogna giocarla perfettamente quindi opta per una mossa d'attesa con 48 qua il bianco gioca 22 19 invece di 28 23 che 22 19 eppure la mossa migliore non chiedetemi il perché ma la trova anche se da qui bianco sta su una posizione semi perdente 13 18 per il nero qua il bianco non attacca probabilmente anche se la mossa migliore non attacca perché qui ci sarebbe questa anzi prima si cattura con la 3 poi 21 30 e qua anche se si riesce a scappare con la 28 qui viene incastrata la 32 e tre dame diciamo che la posizione è difficile il nero potrebbe prevalere quindi per questo motivo qua il bianco gioca 28 23 adesso spera di portare più pezzi avanti ma il nero gioca 18 21 mossa fortissima che fa spostare il bianco e facendo dama cerca di prendere tutti questi pezzi anche se qua il bianco adesso ha un cambio infatti il bianco fa il cambio e qua viene giocata 23 19 così se il nero attacca qua ci sarebbe 19 14 e i pezzi sarebbero vari anche se c'è sempre quel problema lì infatti il nero gioca l'interessantissima 30 26 e qua c'è una trappola fenomenale qua il bianco pensate che doveva trovare come mossa 32 28 da questa posizione una posizione una posizione difficilissima come tutti gioca 12 8 e qui il nero trova la combinazione giusta parliamo di persone che sanno il fatto loro e che veramente non ne sbagliano una 11 15 cambio bestiale qua adesso il bianco fa dama 19 15 48 pensate qui la posizione è stra bloccata 17 21 32 28 ora il bianco cerca di dare un pezzo per poter fare una patta sotto pezzo perché questa posizione qui è bloccata pensate una dama sta bloccando due pezzi anzi tre se consideriamo anche questa che ha questa linea quindi è nel range della nella dama nera il bianco come già detto fa 28 23 vuole dare il pezzo 26 29 23 20 e ora spera in una pari una pari sotto pezzo con 4 e 8 4 3 6 ora si va all'inseguimento qua viene fatta 14 18 24 20 poi viene fatta mi sembra questa sì qua viene fatta 30 26 36 e con 27 22 qua il bianco si arrende perché si arrende perché se fa 25 21 perde la dama infatti questa non può andare da nessuna parte quindi questo pezzo è totalmente bloccato se fa 6 10 per cercare di dare aiuto nel bloccare la pedina ma c'è 22 18 la dama bianca deve indietreggiare il pezzo passa e la posizione comunque persa in questo caso c'è da dire anche che tenere unite le dame è fondamentale nei finali perché le dame unite sono forti invece quando sono separate è facile che si perdano e che il pezzo i pezzi quelli la in vantaggio con le dame unite vincano la partita poi dipende perché se ci sono pezzi in più il colore può prevalere ebbene per questo video è tutto vi ringrazio per le vostre visualizzazioni per le nuove iscrizioni dei vostri fantastici commenti e noi ci vediamo alla prossima grazie